Beh, buona fortuna. Io ora devo andare. Va bene, ma il capo arriva tra un attimo. Tu devi essere Bruce. Ti stavo aspettando. Signorante! Quindi tu sei il capo, l'elettricista e il custode. A Natale vi illuminerete d'immenso. Non vi ubriacate tutti però, eh? Uno deve riportare gli altri a casa.